Mio Dio, questi sono i resti degli uomini di Tew. Sì, probabile. Evry amava infliggere pene esemplari ai propri nemici. E amava ancora di più far esplodere le mummie. Già. Cerchiamo di muoverci con cautela. Cerratura. Chiave. Ehi, e se hai una trappola? Beh, non abbiamo molta scelta. Mamma. Ma ho un buon presentimento. Sì? Forza. Ok. Hai visto? Beh, almeno non siamo saltati in aria. Merda. Non è che avresti un coltello, vero? No. Ma quel tizio ha una spada. Ecco. Aiutami a farlo dondolare. Oh. 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 Andiamo! Via, via! Oddio! Corri, corri! Andiamo! 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 Che rafficcio! Grazie, Capitano Everi. Come ai vecchi tempi, eh? Elena? Elena? Ehi! Ehi! Elena, andiamo! Elena! È il mio eroe. Dimmi che non l'hai fatto. No! Non è divertente! Tu ne hai combinate di molto peggio. Oddio, mi hai fatto venire un cazzo di infarto! Fammi sentire. A me sembra in forma. Lo sai che... questo pareggia qualsiasi cosa io abbia combinato in passato? Sì, proprio tutto. No. No, neanche per sogno. Guarda, hai fango ovunque. Ti ha mai detto che hai uno strano... concetto di romanticismo? Sì. Qualcuno me l'aveva già fatto notare. Sì. Un bel discorso. Quello deve essere sempre. Forza. Forza. Una cosa torta. Qu'è sempre... Qu'è sempre... ... Qu'è sempre...